Sarà il 14 di ottobre davanti alla Corte d'Assise di Arezzo la prima udienza del processo a carico di Jaguad di Sham, il 38enne di origini magrebine, che il 13 aprile scorso ad Arezzo uccise a coltellate la moglie Sara Ruschi di 35 anni e la suocera Brunetta Ridolfi di 76. Il duplice omicidio avvenne sotto gli occhi dei due figli della coppia, un ragazzo adolescente e una bambina in tenera età. Gli unici testimoni di quella notte di orrore che sconvolse l'intera città fu proprio il ragazzo a chiamare il 118. Il 38enne che si trova adesso nel carcere di Prato non potrà ricorrere a riti alternativi. Il giudice ha fissato il giudizio immediato in calendario appunto per il 14 di ottobre davanti alla Corte d'Assise. L'accusa di cui dovrà rispondere è di duplice omicidio aggravato dalla convivenza stabile. Non gli è stata contestata la premeditazione, rischia l'ergastolo. I figli della coppia e i familiari delle vittime si costituiranno parte civile.